Musica Come abbiamo detto nella scorsa puntata di incontri d'estate col signor commissario del comune di Caltagirono, l'ingegnere Larrocca, è in discussione già approvato alla Commissione Finanza al Senato un decreto salva Caltagirono che consentirà di spalmare il disavanzo che in cinque anni è passato soltanto per quattro anni. Questo emendamento è stato predisposto dai rappresentanti parlamentari del Partito Democratico. Abbiamo gradito ospite Giacomo Pulvirenti, componente della segreteria provinciale del PD e il segretario cittadino di Caltagirone, Paolo Crispino, segretario del PD. Ci raccontate un po' come si è evoluta tutta la vicenda? Sì, buonasera. Noi riteniamo che in questa fase in cui il comune di Caltagirone è commissariato la politica non si possa permettere il lusso di andare in vacanza. La città, come sappiamo, è in una situazione di grave crisi. Vi sono molti problemi che vanno affrontati e risolti. L'aspetto economico e finanziario del comune di Caltagirone, l'impasse che riguarda il bilancio del comune di Caltagirone richiedono un impegno senza sosta nel tentativo di affrontare e risolvere questi problemi. Nel particolare, una piccola premessa di carattere tecnico che va fatta, occorre evidenziare che il comune di Caltagirone, l'ultimo bilancio che ha avuto approvato risale al 2011, mentre a partire dal 2012, quando è partita la gestione del dissesto, la gestione legata alla dichiarazione del dissesto, il comune di Caltagirone non ha ancora un bilancio. In teoria, nell'arco dell'anno 2012, il comune di Caltagirone avrebbe dovuto o approvare un bilancio di previsione, ovvero deliberare lo stato di dissesto dell'ente. In realtà, l'anno solare 2012 si è concluso senza che il comune abbia approvato il bilancio o il dissesto. Dopodiché, invece, nel 2013 è stato deliberato il dissesto e da quel momento il comune avrebbe dovuto approvare il cosiddetto bilancio stabilmente equilibrato. Il sindaco Bonanno è rimasto in carica per quasi tre anni senza riuscire ad approvare quel bilancio stabilmente equilibrato, nonostante abbia goduto di una serie di interventi normativi che in qualche modo venivano incontro alle esigenze del comune di Caltagirone, fino a quando oggi siamo arrivati ad una gestione commissariale per la quale, come detto e ribadisco, il comune di Caltagirone non ha un bilancio stabilmente equilibrato. Il bilancio stabilmente equilibrato il comune di Caltagirone non è riuscito a farlo né nell'arco dell'anno 2012, né dopo che una riforma legislativa ha previsto la possibilità di spalmare questo bilancio stabilmente equilibrato in un triennio. Oggi siamo ad agosto sostanzialmente del 2015 e per il commissario è sostanzialmente impossibile fare pareggiare un bilancio triennale 12, 13 e 14 che riguarda esercizi finanziari ormai chiusi. Il commissario infatti non ha più né la possibilità di incrementare le entrate, né ha la possibilità di tagliare le uscite. E quindi un bilancio nel quale si mettono in colonna tutte le entrate e tutte le uscite che dà una somma algebrica negativa è un bilancio rispetto al quale non c'è rimedio. Per questo motivo è indispensabile un intervento normativo che in qualche modo cambi le regole del gioco, che si faccia carico della situazione nella quale si trovi il comune di Caltagirone. Il Partito Democratico si è fatto carico di questo problema che riguarda appunto il comune di Caltagirone, interloquendo con i funzionali del Ministero degli Interni, interessando la deputazione, i parlamentari e i senatori che appunto sono nelle apposite commissioni e abbiamo incontrato diverse resistenze da questo punto di vista, perché i funzionari del Ministero dell'Interno non erano molto propensi ad allargare ulteriormente le maglie, perché, questo è quello che ci hanno detto, il Ministero degli Interni è preoccupato di evitare che passi un messaggio per il quale i comuni possono fare tutto quel che vogliono, senza porsi particolari problemi, perché tanto, qualora la situazione dovesse farsi complicata, interviene poi sempre lo Stato con un'apposita leggina che consente di sistemare le cose. Noi chiaramente siamo stati determinati nel far valere le ragioni che riguardano il comune di Caltagirone, facendo presente che in un rapporto di sussidiarietà tra i vari livelli dello Stato, tra i vari livelli di governance in cui è articolato uno Stato, il Ministero non può dire al comune di Caltagirone, ora ti arrangi, tu ti sei infilato in questo pasticcio e tu ne devi venire fuori, perché se la situazione è tale per cui l'attuale quadro normativo non consente via d'uscita, è chiaro che occorre una modifica legislativa. La modifica legislativa alla fine è arrivata, noi avevamo chiesto la possibilità di spalmare il bilancio stabilmente equilibrato in cinque anni, per intanto il Ministero ha concesso la possibilità di spalmare il bilancio stabilmente equilibrato in quattro anni e noi auspichiamo che questo intervento legislativo, del quale rivendichiamo con orgoglio il merito, perché io penso che è giusto dire le cose come stanno, va evidenziato il fatto che il Partito Democratico è stata la forza politica, che più di altre, per carità, ci saranno stati altri soggetti che si saranno interessati, sappiamo che il Commissario con un doveroso rispetto istituzionale per tutte le forze politiche ha avuto interlocuzioni con tutti i partiti, ma i fatti parlano da soli, le firme in calcio e gli emendamenti approvati parlano chiaro, è stato il Partito Democratico che si è fatto carico del problema che riguarda il Comune di Caltagirone nel tentativo di fare in modo che il nostro ente esca dal pantano nel quale la precedente amministrazione lo ha cacciato. Adesso auspichiamo che gli uffici del Comune e il Commissario facciano un lavoro profigo e avendo questa nuova possibilità nell'arco delle prossime settimane riescano a chiudere il bilancio stabilmente equilibrato in un quadriennio per poi finalmente uscire dal guado e rimettere questo treno in carreggiata. Quindi in questo modo è sancito una volta per tutte, anche dagli organi istituzionali del Senato ora, ma dopo la Sala della Camera, che dal primo giorno di amministrazione della sindacatura, Bonanno all'ultimo, dal primo giorno all'ultimo, questo sindaco ha avuto la capacità di dissestare il Comune di Caltagirone dopo averlo dichiarato per i primi al 31 dicembre 2011. Ecco, è stato un proseguo di dissesto e quindi il dissesto dichiarato al 31 dicembre 2011 è proseguito fino al 30-31 dicembre 2014. Come ha detto il Commissario, il 2015 si chiuderà praticamente in pareggio. Da questo riequilibrio, lo stesso ha detto ieri sera, nell'ultimo incontro, che mancano 5 milioni di euro, che lui conta comunque di poter intercettare dalla finanza della Regione e quindi riuscire in questi quattro anni a riequilibrare tutto il bilancio del Comune di Caltagirone. Proprio ieri mattina, mercoledì mattina, il Partito Democratico ha incontrato il Commissario del Comune di Caltagirone, l'ingegnere Mario Larrocca, hanno avuto un'interlocuzione a largo raggio e hanno consegnato una lettera con alcuni punti che lo stesso partito, il rappresentante del Partito Democratico, hanno stilato per sottoporre al Commissario del Comune di Caltagirone. Facciamo parlare di questo e del contenuto al segretario cittadino Paolo Crespino. Sì, mercoledì mattina noi abbiamo incontrato il Commissario in Comune per poter formalizzare una serie di proposte a cui abbiamo lavorato in questi mesi. Una delegazione composta da me, nella qualità di segretario, dal Vice-Segretario Giacomo Larosa, dal Dottor Luigi Faille e da Giacomo Pulvirenti. Abbiamo incontrato il Commissario per discutere di alcune questioni che noi riteniamo importanti nella città. Questo per dare un contributo propositivo all'ingegnere Larrocca che certamente si trova a fronteggiare una situazione molto difficile, una situazione per molti versi drammatica. Abbiamo elaborato all'indomani della sfiducia, piuttosto che posizionarci, cercare di cominciare la campagna elettorale, abbiamo voluto fare un lavoro di ricognizione, individuando alcuni temi importanti che l'amministrazione comunale, in questo caso il Commissario con gli uffici, può affrontare e che possa portare dei benefici in un momento così difficile. Ovviamente tutto questo si tratta di, parliamo di questioni che non hanno implicazioni economiche, ma che anzi possono dare un contributo al reperimento delle risorse. Abbiamo voluto dividere per aree tematiche, per aree amministrative le nostre proposte, facendo una divisione in aree economico-finanziare, aree urbanistiche e lavori pubblici, ambiente ed ecologia, questioni di interesse generale, la questione degli asili nido. Abbiamo fatto una serie di proposte, ne abbiamo discusso e le abbiamo ampliate, cercando anche di individuare quali sono le soluzioni ai problemi che oggi la città vive. Per la questione aree economico-finanziare, per esempio, abbiamo suggerito al Commissario di istituire un regolamento di compensazione per quanto riguarda la riscossione dei tributi dei cittadini che vantano crediti dal Comune, in modo così da poter agevolare il pagamento di questi tributi. Per quanto riguarda, per esempio, l'area urbanistica e lavori pubblici, abbiamo individuato le pratiche della sanatoria edilizia che purtroppo, con difficoltà vengono esitate, di istituire un apposito ufficio, anzi implementarlo, un ufficio che già esiste, ma implementandolo con risorse interne e eventualmente applicando un regolamento già esistente che prevede l'aiuto anche di tecnici esterni, così da poter raggiungere un duplice obiettivo che è quello di chiudere le pratiche, di dare un po' di respiro al comparto edilizio che potrebbe, seppur in minima parte, ovviamente ripartire e allo stesso modo avere per il Comune degli introiti appunto dalla chiusura di queste pratiche che riguardano la sanatoria. Altre questioni che abbiamo posto sono per esempio il monitoraggio dell'applicazione del punto a cui è arrivato il PAES, il patto dei sindaci per quanto riguarda le questioni energetiche, valutando anche la possibilità di estenderlo ai privati. Abbiamo suggerito di verificare l'esistenza di finanziamenti di cui noi siamo a conoscenza di finanziamenti europei per quanto riguarda l'efficientamento della rete fognare e degli impianti di depurazione, perché è chiaro che seppur in una fase straordinaria, in una fase particolare, il Comune di Caltagirone e la città di Caltagirone non possono permettersi di perdere delle occasioni che possono portare migliorie alla città. Altre questioni importanti sono state poste, quali per esempio la questione degli asili nido. Abbiamo fatto presente al Commissario che ad aprile la precedente amministrazione pubblicò dei bandi per utilizzare una parte dei fondi PAC che il Comune ha ricevuto per aprire per esempio gli asili nido nel pomeriggio dando la gestione ai privati. Noi riteniamo che in questa fase in cui c'è incertezza o si è paventata anche la possibilità che i nidi potrebbero non riaprire a settembre, di annullare e revocare questi bandi qualora non sia stato già fatto e utilizzare questi fondi per aprire i asili nido e dare così la possibilità di poter metterli a regime già a settembre durante gli orari giornalieri. Uno degli argomenti che vedo nella lettera che avete sottoposto dal Commissario è il problema della REMS di Santo Pietro. Il Partito Democratico si fa portavoce del disagio degli abitanti della frazione di Santo Pietro che tanto documento sta creando, quante difficoltà sta creando anche in particolare questo momento estivo diciamo con tutte le notizie di cronaca che ci arrivano seppur in ritardo, seppur molto filtrate. La questione della REMS è una questione molto importante in cui il partito non ha mai nascosto la propria posizione perché tendenzialmente noi riteniamo che non bisogna avere paura delle diversità chi viene accolto in queste strutture ha necessità appunto di essere seguito di poter avviare un processo che lo porti alla remissione all'interno della società quindi diciamo che tendenzialmente noi anche quando si è discusso negli organi istituzionali in Consiglio Comunale per esempio non siamo stati mai aprioristicamente contrari. È chiaro però che la scelta del Sessorato regionale alla Sanità e del Ministero in generale di collocare la REMS a Santo Pietro senza il coinvolgimento dei cittadini ha creato parecchie difficoltà e parecchi problemi perché è chiaro che scelte di questo genere vanno fatte tenendo conto anche delle specificità dei luoghi delle esigenze dei cittadini, di quello che può essere la prospettiva di Santo Pietro. Ecco in questa fase noi abbiamo visto che la REMS così come è stata concepita è una struttura che certamente poco si coniuga con la frazione di Santo Pietro e quindi noi abbiamo chiesto al commissario di farsi carico innanzitutto non né di chiudere la struttura né di tenerla aperta senza batterciglio ma di farsi carico appunto di coinvolgere intanto di verificare il rispetto del protocollo di sicurezza sottoscritto dall'ASP3 di Catania dalla regione Sicilia quindi dall'assessorato e dalla prefettura perché noi all'indomani diciamo qualche giorno dopo i primi casi di evasione dalla REMS abbiamo chiesto un incontro al prefetto di Catania che molto gentilmente ci ha ricevuto e abbiamo posto la questione appunto della sicurezza e lì c'è stato evidenziato che dal prefetto che era stato sottoscritto un protocollo di sicurezza e che sembra che queste condizioni poste appunto nel protocollo non fossero state rispettate che innanzitutto dobbiamo partire dalla sicurezza dei cittadini ma anche degli utenti e di chi nella REMS è ricoverato perché non dobbiamo dimenticare che è per chi ci lavora per i lavoratori ovviamente quindi questi episodi che si sono susseguiti in queste settimane chiaramente hanno creato molto allarmismo ora senza voler fare terrorismo per carità non è assolutamente necessario riteniamo però che vada assolutamente approfondita la possibilità della permanenza o meno della REMS anche valutando un eventuale spostamento in luogo più idoneo ma non solo per i residenti ripeto e per la frazione ma anche nell'interesse di chi nella REMS ci vive e di chi lavora appunto nella REMS non è ripeto una questione semplice va approfondita appunto con gli enti che hanno competenze in materia avevamo anche chiesto noi all'assessore, all'ex assessore regionale della sanità Lucia Borsellino avevamo un incontro ma non un incontro a Palermo, avevamo proprio chiesto che lei venisse qui a fare un sopralluogo e di farlo congiuntamente a noi come rappresentanti del Partito Democratico, col commissario e con le associazioni purtroppo non abbiamo avuto il tempo perché chiaramente come tutti sappiamo è arrivata la dimissione ecco questo è un tema di interesse generale, l'abbiamo inquadrato in questioni di interesse generale così come per esempio la questione della fornace Hoffman di cui si è persa traccia che è sotto sequestro ormai dal 31 dicembre e sembra che ancora sia sotto sequestro insomma è molto strano che chi amministrava prima non si sia mosso immediatamente intanto per chiedere il dissequestro dell'immobile è un immobile di proprietà del comune che ancora appunto non si capisce perché non venga restituito ai legittimi proprietari queste sono solo alcune questioni che abbiamo posto credo che su questa faccenda il pasticcio è stato fatto sin dall'inizio quindi potremmo commentare in tanti modi insomma non è solo questo il problema l'offman è stata soltanto una dimenticanza di un bene, di tanti beni praticamente ci si può anche dimenticare che è sotto sequestro nessuno ci andava a svolgere uffici quindi né tanto meno come ho detto prima il RIS stanno facendo rilevamento perché nessun omicidio è stato consumato all'interno un'altra osservazione che avete sottoposto al commissario è quello del ripristino della mezz'ora per le strisce blu sì il ripristino della mezz'ora delle strisce blu perché è chiaro che queste proposte a qualcuno forse sembrava che il partito democratico fosse andato in ferie o si stesse riposando dopo aver sfiduciato la vecchia amministrazione in realtà questi due mesi sono stati per noi due mesi di lavoro intenso sotto traccia ma che ritenevamo andasse fatto qualcuno ci ha definito insomma dei marziani perché volevamo sapere prima qual era la situazione del comune beh io credo che se bisogna fare un lavoro serio anche in prospettiva intanto partire dalle criticità che la città ha e capire quali siano e nell'immediato cercare di dare delle risposte la questione delle strisce blu del ripristino della mezz'ora è una questione importante siamo arrivati a fare queste proposte anche interloquendo con le associazioni di categoria con le associazioni interessate insomma e per esempio questa del ripristino delle strisce della mezz'ora della sosta di mezz'ora delle strisce blu è una questione sicuramente importante non solo per i cittadini ma per esempio per i commercianti e per chi oggi ha un'attività commerciale in genere un'altra proposta che noi abbiamo fatto al commissario è quella appunto del ripristino della guardia medica su cui c'eravamo già espressi in consiglio comunale di poter riportare un presidio della guardia medica al centro storico perché è di fondamentale importanza per i residenti appunto del centro storico che spesso hanno difficoltà a potersi recare soprattutto nelle ore notturne per esempio all'ospedale tra l'altro la guardia medica accanto al pronto soccorso insomma non mi sembra che abbia grande utilità un'altra questione posta è stata anche per esempio l'avvio di un processo che porti all'istituzione della zona traffico limitato nel centro storico perché riteniamo che sia assolutamente inconcepibile che una città come Caltagirone patrimonio dell'UNESCO non debba avere appunto una zona traffico limitato non parliamo di chiusura totale, di chiusura netta perché è chiaro che su queste vanno fatte valutazioni anche politiche però avviare un processo con le associazioni di categoria, con i commercianti per cui si comincia a parlare, a discutere sul come poter dare un po' di respiro al centro storico di Caltagirone lo riteniamo di assoluta importanza e ripeto non si può attendere che la prossima amministrazione se ne occupi ma bisogna cominciare a lavorarci fin da adesso perché adesso siamo ad agosto, insomma l'estate ormai abbiamo l'ultimo mese ma è chiaro che per esempio penso al periodo di Natale dove quando Caltagirone riceve migliaia di studenti, soprattutto bambini che vengono in visita a Caltagirone per vedere i presepi e tutte le nostre bellezze è assurdo che non ci sia la possibilità di poter camminare liberamente nel centro storico perché questo mette a rischio anche la sicurezza dei bambini e certamente non ci fa una pubblicità un'altra questione che abbiamo posto per esempio è stato l'avvio immediato di una concertazione tra l'ufficio tecnico, le associazioni dei professionisti, appunto geometri, ingegneri, architetti e le associazioni che si occupano di centro storico perché il 17 luglio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale una legge che rivede la riperimetrazione e riclassificazione dei centri storici è una legge che sinceramente noi non abbiamo molto condiviso perché mette a rischio anche l'identità dei centri storici della regione Sicilia delle città della Sicilia e quindi in particolar modo Caltagirone ecco siccome gli uffici hanno 220 giorni per procedere a questa perimetrazione riteniamo che non si possa appunto perché non arriviamo a poterlo fare se ne dovrebbe occupare il Consiglio Comunale negli altri comuni se ne occupare il Consiglio Comunale essendo la nostra città sprovvista di Consiglio Comunale deve assolutamente attivarsi l'ufficio per procedere appunto a dei tavoli tecnici che salvaguardino il patrimonio e l'identità del centro storico di Caltagirone va bene, tanta carne al fuoco e credo che sia giusto in un momento di commissariamento che le forze politiche rappresentino, stimolino il commissario che è quello che assomma a sé l'attività amministrativa e anche quella politica per certi versi quindi non avendo né Consiglio Comunale né Giunta quindi mi sembra normale che il lavoro dei partiti oggi per chi è operativo debba essere quello di rappresentare, di stimolare più di questo non si può fare L'iniziativa del Partito Democratico al di là del merito delle proposte che come diceva giustamente il segretario sono il frutto di due mesi di lavoro fatto negli organi di partito coinvolgendo appunto i nostri quadri dirigenti ma anche persone esterne al partito che da questi microfoni possiamo cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e quant'altro un lavoro di ricognizione che poi ha portato a questo documento queste tre cartelle fatte appunto di proposte precise che non hanno costi per il comune che possono essere realizzate rapidissimamente e che possono produrre effetti utili per affrontare i problemi della città dicevo questo lavoro fatto perché noi riteniamo che da un punto di vista politico i partiti non possono rimanere concentrati esclusivamente sulla campagna elettorale che si svolgerà nella primavera del 2016 Caltagirone è in una situazione difficilissima è gestita da un commissario a questa situazione difficile, a questa fase delicata non possiamo sommare le responsabilità di una politica che si concentra esclusivamente sul risico della conquista della poltrona con chi mi alleo, chi candido, chi fa l'assessore, chi fa il sindaco chi ci metto nella lista e quant'altro mentre appunto i problemi della città rimangono tutti sul tappeto la priorità è e deve rimanere l'elaborazione delle proposte per i problemi della città con questo atto il Partito Democratico ha dimostrato che al di là della corsa per le candidature al di là di tutte le partite politiche che spesso distraggono gli operatori della politica dalle questioni serie al di là di tutto il resto noi abbiamo come priorità assoluta la risoluzione dei problemi della nostra comunità va bene, chiudiamo questo spazio grazie al segretario cittadino del Partito Democratico Paolo Crispino buon lavoro e buone vacanze se vacanze ci saranno grazie all'avvocato Giacomo Pulvirenti al solito lo disturbiamo spesse volte per raccontarci, spiegarci meglio anche tecnicamente taluni passaggi tecnici che si svolgono attorno al nostro comune stasera era appunto questo emendamento predisposto alla deputazione del Partito Democratico esitata dalla Commissione Finanza al Senato approvato il quale consentirà di spalmare il disavanzo del 2012 fino al 2015 in quattro anni è passato questo decreto salva Caltagirone adesso è al vaglio della Camera dei Deputati e quindi poi a quel punto si procederà così come ci ha rassegnato nell'incontro che abbiamo avuto l'ultimo scorso con il commissario l'ingegnere Mario Larocca grazie, buon lavoro a voi grazie